Il primo tempo è stato un primo tempo equilibrato, in cui onestamente non si è vista molto la differenza di valori. Anzi, secondo me abbiamo avuto un paio di occasioni in cui, se gestite meglio, potevamo arrivare alla conclusione. Quindi un primo tempo tutto sommato in grande equilibrio contro una squadra forte. Poi il secondo tempo la partita si è un po' aperta e giocarsi la partita sul piano tecnico con una squadra come la Ternana non è buona cosa e infatti nel gioco attacco io, attacchi tu, la Ternana individualmente ha un potenziale alto in cui ti può far male in qualsiasi momento e quindi l'aver perso un po' di equilibrio ha condizionato un po' il secondo tempo che poi abbiamo avuto una grandissima forza d'animo nel ribaltare il risultato dall'1-0 al 2-1. Secondo me se riuscivamo, e non siamo riusciti, se riuscivamo a tenere un quarto d'ora quel risultato con i denti un po' più stretti e con le maglie dei reparti un po' più chiuse saremmo secondo me riusciti a portare a casa qualche punto. Faccio anche fatica a dire qualcosa ai miei ragazzi perché il fatto di aver perso equilibrio è perché volevano vincere la partita, perché l'avevano preparata bene, stavamo in campo bene e quindi la loro troppa voglia secondo me ha portato a questa mancanza di equilibrio che poi concedere spazi a una squadra come la Ternana risulta fatale. Noi abbiamo un grande obiettivo che è quello dei play-off, vogliamo arrivarci con tutte le nostre forze e vogliamo arrivarci nella maniera migliore e quindi dispiace perdere ma non cambia l'obiettivo, non cambia la nostra mentalità, non cambia quello di buono che stiamo facendo e andiamo avanti. Santoro ha fatto un gran gol, mi dispiace molto perché dopo che ha fatto gol ho visto in lui quasi delle lacrime nel venire ad esultare lì in panchina con noi. Avrei voluto tantissimo che lui provasse l'emozione della vittoria per il suo gol, mi dispiace perché ho visto un ragazzo veramente emozionato in quel gol un ragazzo giovane che sta facendo benissimo, avrei voluto veramente condividere con loro la gioia della vittoria non è stato così, teniamoci dentro questa rabbia e cerchiamo di scaricarla domenica in campo contro il Francavilla.